Salvini, anche lei in visita a Nanto. A parte che ha difeso una donna in difficoltà, purtroppo c'è scappato il morto che nessuno avrebbe voluto. Se questo morto non fosse stato a rapinare sarebbe tranquillo con la sua famiglia. Siamo a chiedere che lo Stato garantisca che i cittadini possano lavorare, vivere in sicurezza a Vicenza come in tutto il resto d'Italia. E purtroppo non è così per le leggi votate da un Parlamento di scemi che vota indulti, svuota carceri, sconti di pena e toglie poteri e soldi alle polizie e alle forze dell'ordine. Incontro con Zai e Tosi, quali le aspettative? Che il sole che c'è in cielo ci permetta di continuare a ben governare il Veneto. Zai è il governatore più amato d'Italia, la sanità veneta è la migliore d'Italia, il Veneto è una regione che spende meno per politica e per dipendenti regionali. E quindi discutano loro su come fare le liste, con chi farle, perché, per come, mi interessa poco. Mi basta che non si metta in difficoltà Luca Zai che è un modello, è un esempio. Ma il nostro non continua a far discutere? No, continua a far disastri, nel senso che qua c'è gente che parla di guerra da fare al di là del Mediterraneo e va a prendere migliaia di immigrati di cui non sappiamo nulla facendo un favore agli scafisti. Quindi fossi io al posto di Renzi le navi della Marina Militare e della Guardia Costiera le userei per difendere i confini e non per fare il taxista dei clandestini. Grazie.